10 5 4 3 2 1 vai 20 al B destra 6 vai 80 Ciganne entra a destra Ciganne entra a destra vai 20 al vuoto ritarda a sinistra 2 20 ritarda destra 3 apre 4 più vai lunga lunga chiude poco alla figa chiude poco alla figa al B in sinistra 4 lunga lunga chiude 2 chiude 2 al B questa qua vai al B 30 ritarda a sinistra 2 più in accenno destro lungo apre 30 sconnessi ritarda in fila sinistra 4 più corta 10 ritarda a destra 3 più per sinistra 2 più scende 2 più scende dopo 40 dosso dritto stacca Ciganne entra a destra 30 ritarda sinistra 4 corta in sinistra 3 6 sotto 3 6 sotto 20 vai ritarda destra 3 diventa 5 vai 70 sfera destra in sinistra 2 in piazza 2 in piazza vai 80 Ciganne entra a destra 20 al vuoto ritarda sinistra 2 20 ritarda a destra 3 diventa 4 più lunga lunga vai chiude poco la figa in sinistra vai al B falla scorrere in sinistra 4 lunga lunga chiude 3 a rosso 3 20 ritarda sinistra 2 più in anticipa destra 5 lunga lunga per ritarda sinistra 4 corta 20 ritarda destra 3 più lunga per sinistra 2 scende 2 scende al B dopo occhio qua 50 dosso dritto stacca Ciganne destra al B qua stupido stacca vai 30 sinistra 4 chiude 3 più alla casa 20 destra 2 meno meno vai stop bravo al B 2 e 16 bravo 2 2 e 16 16 è troppo e Grazie a tutti.